Salve, sto facendo merenda e pomeriggio sono lì 18.46, è umido e freddo. Ieri faceva caldo, credo, più di oggi di sicuro. E già da un po' che sto facendo merenda con un budino. Buono, c'è il dolce di latte. E un... Un budino. Ve come dire. Come vanno le cose là? Tutto bene. Un final in la vita di alguien che era fanatico provoca. Però è il legato della passione per i suoi colore contiene la tua persona, no? Sì, sì. Pardon, non posso parlare, però sì, sicuro. Cuali cose vanno così, così? C'è il suo 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 numero uno. C'è il suo 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 numero uno. E' un dolcetto. C'è il mio dolce. E' un dolcetto. E' un dolcetto. l'ho proprio finito beh credo che tutti noi non solo io ma anche molti di voi conoscono e danno per certo che youtube ti paga quando hai successo ti dà soldi questo in parte è vero ma c'è sempre un ma e un vero accanto al melo vabbè il fatto che succede che non basta che il tuo video sia popolare che lo vedano migliaia di persone che votino mi piace e che lo mettano fra i video favoriti il collettivo il truceto che risale deve anche essere fatto click nel banner pubblicitario perché quello che ti dà quattrini molti dicono devi raggiungere un milione di visioni no c'è gente che già prende centesimi di euro perché dozzine di persone gli hanno fatto click nel banner pubblicitario io avrei bisogno di denaro sono disoccupato non vi chiedo quindi del denaro non vi chiedo di votare mi piace e di mettere tutti i video fra i favoriti e di votare tutti i video mi piace di guardare tutti i video di iscrivervi al canale però se molti di voi vedranno qualche video di suo interesse magari che votino mi piace ma che vi pregherei di fare click nel banner pubblicitario del video che localmente sarà di qualche sponsor di youtube perché quello sì che inizia a attivare i guadagni e io dovrò rinnovare il mio parco tecnologico sto vedendo dei cataloghi di tablet e cellulari ed è pazzesco quanto costano gli Xperia ZL il Nokia Lumia 1020 il Galaxy Samsung S4 Samsung Galaxy Note 3 gli iPad e tutte queste cose quindi se avete delle simpatie per me e vi piace quello che faccio e mi volete premiare per favore fate click nel banner pubblicitario oltre magari a votare mi piace e tutto io cerco sempre di trovare dei temi però si fa quello che si può quindi un gran e caloroso ringraziamento anticipato dal vostro caro amico Santenchan mi raccomando fate click sui banner pubblicitari perché ne ho bisogno e poi continuerò sempre a fare quello che posso per mantenermi comunicato con voi per dare il mio contributo a internet ciao